Ciao, sono Mimmo e faccio parte dell'associazione Open Lab Matera per officine mediterranee. In questi giorni mi sto occupando della creazione degli scudi facciali per il 118 Lucano. Oltre agli scudi facciali stiamo lavorando alla modifica della maschera da snorkeling della Decathlon. In particolare una prima modifica è l'applicazione di una valvola sviluppata dagli ingegneri dell'azienda Bresciana Isinova per trasformarla in una maschera per l'ossigeno a pressione positiva per chi ha insufficienze respiratorie. Un'altra modifica che stiamo producendo è quella di un adattatore per un filtro per rendere la maschera un dispositivo di protezione individuale per gli operatori sanitari. Oltre a questo stiamo testando la produzione di diverse tipologie di mascherine sempre tramite la stampa 3D. È bello vedere come in questo periodo tante persone si stanno mettendo a disposizione gratuitamente per dare il proprio contributo. Ciao!